cari amici bentornati alle 3 2017 di ign italia io sono walone e poco fa avuto modo di provare la terra di mezzo l'ombra della guerra shadow war ovvero il seguito dell'ombra di mordor gioco d'azione di ruolo open world ambientato nel mondo del signore degli anelli che avevo già avuto modo di provare qualche settimana fa in un evento appositamente organizzato a milano da warner bros e dove però c'era stata fatta provare semplicemente solo una parte del gioco vero l'assalto alle fortezze che mi era sì piaciuta però insomma non era proprio la cosa per cui mi interessa di più questo gioco mentre oggi a los angeles ho avuto modo di provare l'open world del gioco andare un po in giro fare missioni principali missioni secondari è stata una sessione di gioco che mi ha soddisfatto molto di più per come approccierei io il gioco poi è chiaro l'assalto alle fortezze è una parte importante vi invito a cercare e leggere l'anteprima che scrissi all'epoca su ign italia se vi interessa quell'aspetto del gioco però devo dire che muovermi nell'open world invece dell'ombra della guerra comunque mi è piaciuto mi è piaciuto di più funziona sempre molto bene come nel precedente episodio si seleziona dalla mappa l'attività o la missione principale o secondaria che si vuole svolgere si possono utilizzare le torri come punti di spostamento veloce tramite teletrasporto e poi c'è questo sistema di controllo che è addirittura più immediato e più permissivo direi di quello degli assassin's creed a cui in parte si rifà visto che il protagonista comunque può arrampicarsi dovunque può saltare da dovunque senza eccessivi problemi e anche il sistema di combattimento è rimasto molto simile a quello del precedente episodio che a sua volta era un po molto ispirato a quello della serie batman arkham di rocksteady quindi qui monolith mantiene un po tutte le caratteristiche dell'episodio precedente che funzionavano e fa bene e con un nemesis system che in questa occasione non ho avuto modo di approfondire nello specifico ma che avevo già visto nell'occasione precedente comunque sarà abbastanza ampliato ho provato due missioni una che iniziava con una sorta di indagine un po tetra un po scuro in una foresta dai toni cupi e che poi sfociava in uno scontro con due boss uno un bestione gigante veramente tosto mi ha dato mi ha ucciso due volte mi ha dato un bel po di filo da torcere e ucciso questo bestione gigante c'era anche uno scontro con invece una creatura alata una sorta di di drago in entrambi i casi alla fine ho risolto il combattimento nel secondo caso come è ovvio aspettarsi con degli attacchi a distanza con le frecce etere utilizzate nella forma spirito del protagonista che una volta finite se ne può avere un massimo di 10 contemporaneamente le si può trovare in giro sono ben presenti anche sulla minimappa anche nel primo caso tra l'altro erano molto efficaci gli attacchi a distanza perché anche il bestione che da terra diciamo così comunque era troppo pericoloso nel nel corpo a corpo e da vicino quindi era opportuno tenerlo a distanza e colpirlo con le frecce ci sono attacchi caricati che si possono ottenere semplicemente tenendo premuto il pulsante più a lungo funziona direi tutto abbastanza bene tranne se vogliamo qualche piccolissima imperfezione ogni tanto nelle collisioni quando si corre e magari si può rimanere incastrati con il mignolo del piede in un angolo di muro e non si capisce bene però insomma sono cose saltuari da open world che può che possono capitare per il resto mi sembra un gioco anzi estremamente fluido nel nel controllo e nel combattimento molto 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 piacevole arriva ad ottobre per pc ps4 e xbox one con ovvio supporto per ps4 pro e xbox one x va bene è tutto per shadow mordor dalle 3 2017 ho davanti a me delle persone meravigliose meravigliose e quindi vado ad abbracciarle e vi saluto caraibi